e invece nel nostro territorio questi castelli diventano romantiche, rovine o in altri casi vengono restaurati in modo... perché bisogna dirlo Affonso, quasi mai c'è una ricerca archeologica quando si fa il restauro o se la si fa, la si fa giusto per apparenza e poi quasi mai si segue l'indicazione dell'archeologo e questo è un grosso danno, non ve lo dicono due archeologi diciamo con il dente avvelenato nei confronti dei restauri ma proprio perché con un buon esempio di valorizzazione, di studio e di divulgazione queste strutture, queste romantiche rovine in realtà possono trasformarsi anche in questo caso in un buon esempio di welfare culturale e quindi motori, veicoli di economia, di occupazione e di progresso per i nostri territori fin troppo bistrattati dalla nostra politica Senti Alfonso, io rubo soltanto un minuto al tuo meraviglioso racconto che adesso inizierai a farci per dirti che in Irpinia a me sembra che ci sia uno sfasamento, la tendenza sempre a strafare innanzitutto non vengono quasi mai adoperati i materiali del luogo c'è questo cotto che viene messo dappertutto, che non ci azzecca niente, questi disegni geometrici e poi purtroppo quasi sempre Alfonso si sfocia nel cattivo gusto vediamo anche quando alcuni locali, alcune taverne hanno questi nomi antichi eccetera e vediamo sempre insomma che sono delle ricostruzioni baroccheggianti di qualcosa che non esiste ma secondo te come mai non si riesce ad essere semplici, ad avvicinarsi al proprio mondo, al proprio passato al proprio presente in modo semplice così come hanno fatto i nostri antenati e come mai non si riesce ecco a vedere nella semplicità reale che hanno le cose della nostra terra la vera bellezza perché bisogna aggiungere sempre orpelli inutili forse questo fenomeno è legato a quello che dicevamo prima c'è una scarsa conoscenza del nostro territorio e quindi anche una scarsa stima, una scarsa capacità anche di valorizzare basta rivedere dei esempi diciamo molto più progrediti rispetto ai nostri cioè la Toscana, l'Umbria, le Marche e basta vedere cosa avviene in quei territori come viene valorizzato il loro territorio in maniera estremamente semplice appunto come dicevi ma in maniera altrettanto estremamente efficace il turista apprezza, il cultore della materia apprezza non deve necessariamente trasformarsi il bene culturale o il borgo storico in un parco giochi per turisti ma deve trasmettere qualcosa la storia trasmette sempre qualcosa e di conseguenza anche castelli, chiese, monasteri la verità deve trasmettere esatto, deve trasmettere la storia e quindi le radici di quel posto deve far capire quel posto come si è evoluto quindi trasformare dalla pietra al cotto o con altri elementi o aggiungere elementi in più all'interno di una struttura nata in maniera differente significa stravolgere il passato e di conseguenza poi falsificarlo perché gli antichi che facevano? non facevano altro che riutilizzare i materiali che trovavano nel posto a meno che non volessero dare un valore architettonico eccezionale alla cosa e facevano importare i materiali da fuori però bisogna dire un'altra cosa Alfonso tu hai richiamato l'esempio della Toscana e lì c'è l'esempio di Valenti e del suo gruppo che sono professori universitari, studiosi che fanno ricerca da una vita che hanno prima scavato minuziosamente in un luogo poi hanno fatto anni e anni di fatica per capire come funzionavano le cose poi hanno ricostruito e adesso li ritrasmettono agli altri allora qual è il problema? il problema è che spesso ognuno crede di poter fare lo storico o l'archeologo ma per fare questo mestiere come ogni mestiere c'è bisogno di anni di duro lavoro, ricerca insomma bisogna essere dei professionisti seri e quindi fanno divulgazione persone che non sono in grado di farla e questo è il nostro problema qui in Campania spesso viene demandato dalla politica ovviamente ad amici degli amici il turismo o comunque viene appunto svolto da come dicevi giustamente da persone non qualificate basta prendere in considerazione come esempio quel bellissimo modello dell'archeodomo di Poggi Bonzi portato avanti da Marco Valenti e la sua scuola l'archeodomo di Poggi Bonzi non è altro che un villaggio carolingio ricostruito dagli stessi archeologi che lo hanno scavato andare lì, fare una passeggiata tra queste capanne definite long house il termine scientifico di questi insediamenti ci sono delle capanne molto lunghe in materiale reperibile quindi legno, paglia e fango e tu sai che stai camminando nella capanna come loro l'hanno trovata realmente come ci viveva la gente 1200 anni fa è così sono docenti universitari che raccontano in maniera estremamente semplice e chiara ai visitatori quello che avviene all'interno di questo villaggio quali sono i personaggi che loro stessi interpretano in maniera magistrale e quindi si assiste in realtà a una lezione di storia medievale ci va il docente universitario a capire meglio alcuni dettagli ci va il ragazzino delle elementari ci va il turista e ci va il semplice appassionato e quello è veramente un modello virtuoso di welfare culturale cioè loro hanno creato economia hanno creato economia grazie alla cultura e quindi quando si dice che con la cultura si può mangiare sì, è vero si può creare economia grazie alla cultura in modo serio in modo scientifico in modo bello ma bisogna soprattutto crederci crederci e mettersi nelle mani degli studiosi di chi fa questo mestiere come non mi farei mai operare al cuore da un archeologo così non farei fare a un altro mai il mestiere dell'archeologo ma adesso tu che sei uno studioso serio un ricercatore che si è impegnato per anni nello studio del territorio dell'Abruzzo ci vuoi raccontare qualcosa su queste fortificazioni? su cosa succede dopo che i Longobardi questi uomini venuti al seguito di questo re alboino nel VI secolo verso la fine del VI secolo in Italia quando questo mondo inizia a sfaldarsi sotto i colpi di un nuovo popolo che sceglie un nuovo popolo diciamo condottieri conquistatori avventurieri che arrivano in Italia meridionale che cosa succede alla storia e al paesaggio? diciamo che in modo estremamente semplicistico e quindi facendo un salto di diversi secoli in realtà vediamo come queste fortificazioni Longobarde iniziano a trasformarsi a intestinificarsi nel corso del IX e X secolo l'incastellamento cioè la nascita di questi castelli nel corso del IX e X secolo trova motivazioni differenti nascono questi castelli non solo per questioni difensive ovviamente per paura di eventuali attacchi ma nascono anche per una gestione economica e politica e militare del territorio e siamo appunto nella fase diciamo del primo feudalesimo e quindi ogni feudatario ogni dominus cerca di ritagliarsi un territorio a sé soggetto per la gestione economica e materiale più o meno nell'anno 1000 siamo appunto fra IX e X secolo dopo Cristo quindi fra appunto il novecento e l'anno 1000 e poi arrivano quelli che vengono definiti da un documento di un monaco un monaco di Aversa li definisce i maledicti normanni quei maledetti normanni e in realtà sono proprio i normanni che cambieranno per sempre la fisionomia e anche la cultura di questo territorio noi li vediamo appunto come degli invasori come dei barbari e in molte raffigurazioni vengono visti come gli eredi dei vichinghi quindi con elmi con le corna o comunque vestiti male spagliatissimi perché in realtà non ce ne sono così in realtà i normanni sono fra i popoli più evoluti del medioevo avevano un'apertura culturale mentale eccezionale basti pensare che nel XII 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 secolo per parlare il latino ovviamente bisognava andare bisognava stare ovunque tra cui anche Palermo capitale appunto del regno normanno per parlare l'arabo si poteva andare a Codva in Spagna o a Palermo e per parlare l'ebraico si poteva andare in Terra Santa o a Palermo per parlare il francese appunto in Normandia in Francia o a Palermo era una società multiculturale era una società estremamente aperta una società estremamente ricca basti pensare che so che la la madre del monaco Giovanni nel se non vado dato nel 1130 si fa scrivere sulla sua lapide funeraria un epitaffio in quattro lingue arabo ebraico greco e francese quindi c'è questa apertura enorme da parte dei normanni che in pochissimi anni conquistano gran parte del sud Italia realizzano castelli o trasformano i castelli che già trovano posso dire una cosa perché poi noi l'attribuiamo a Federico II questa grande apertura mentale questa grande cultura ma Federico è figlio di una cultura per parte di madre è normanno e non fa altro che raccogliere l'eredità che gli lasciano i suoi avi quindi di grande apertura di grande cultura tolleranza esattamente una grandissima tolleranza basti pensare che quando arrivano in Sicilia allora occupata dagli arabi i normanni non li cacciano non li respingono anzi li inglobano all'interno della loro gestione cioè all'interno del loro del loro regno e addirittura la cultura era in mano agli arabi al tempo dei normanni cioè nella corte di Ruggiero nella corte palermitana c'erano moltissimi normanni dignitari normanni che gestivano appunto la cultura uno dei più grandi geografi dell'antichità uno dei più grandi geografi del Medioevo è Aledrisi un arabo lui che descriverà gran parte del regno normanno gran parte dell'Italia meridionale e anche la nostra terra sì 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 e infatti poi quando arriva nella terra dove vivo io quando arriva in Abruzzo dice semplicemente che tra Campomarino in Molise e Ancona nelle Marche c'è una selva di 12 giorni di cammino dove la gente viveva cacciando e raccogliendo miele ovviamente è un'esagerazione letteraria ma perché lui esagera così tanto e va a descrivere questa terra come una landa desolata di 12 giorni di cammino così diversa è molto molto diversa esatto da Palermo questa corte palermitana basti pensare alla Cappella Palatina con dei mosaici in oro la Cuba la Zisa castelli urbani che addirittura avevano anche sistemi che potremmo definire sistemi di aria condizionata al loro interno complessi sistemi di circolazione dell'aria e di forzatura dell'aria che riusciva ad abbassare la temperatura interna all'interno di questi castelli di diversi gradi quindi avevano anche un'evoluzione tecnologica e culturale molto molto avanzata la grande capacità dei normanni appunto è quella di riuscire ad assorbire e attrarre il meglio di culture diverse le culture che loro incontrano sui territori senza pregiudizi senza preconcetti questi uomini che partono da una terra appunto del nord fredda e si espandono un po' a raggiera in tutta l'Europa in Inghilterra Guglielmo il conquistatore più o meno nello stesso periodo nel 1066 con la battaglia di Austin la conquista e lì su quel bellissimo c'è un lenzuolo stupendo un alazzo bellissimo conservato a Bayer che la tradizione vuole fatto dalla moglie di questo conquistatore ricamato ci sono delle figure meravigliose che aiutano tantissimo anche l'archeologia proprio nel modo in cui questi uomini costruivano anche i loro castelli tra virgolette e poi arrivano in Italia meridionale ma prima di dare vita e struttura a questo regno che tu ci stai descrivendo in modo così mirabile come iniziano ad insediarsi in questo territorio però questa cosa ce la racconti Alfonso dopo questo breve stacco musicale musica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti